Egodom è il consorzio italiano di recupero e riciclaggio degli elettrodomestici, ma che cosa sono i RAI? I RAI sono i rifiuti di apparecchiatura elettrica e elettronica, cioè tutto quello che funziona con la corrente, sia attaccato a un filo inferiore in una presa oppure con una batteria, quando diventa un rifiuto, quando non è più utilizzabile, è un RAI, un rifiuto di apparecchiatura elettrica e elettronica. Bisogna ricordarci che questi rifiuti non devono essere buttati nella spazzatura indifferenziata, non dobbiamo buttare il rasoio elettrico o l'iPod in mezzo ai rifiuti urbani, dobbiamo fare una raccolta differenziata per due ragioni. La prima è che i RAI contengono sostanze inquinanti, basti pensare per esempio al gas contenuto nei frigoriferi, quindi questo gas che provoca il buco nello zono deve essere estratto dai frigoriferi e rimosso in modo sicuro. La seconda ragione è che questi RAI contengono materie prime, come il ferro, il rame, l'alluminio, la plastica, che possono essere riciclate, cioè rimesse nei cicli produttivi. E quindi dobbiamo assolutamente sottoporre i RAI a un processo di trattamento in grado di catturare queste materie prime.